Si chiamava Anna Florence Redd, aveva 22 anni di età e era giovanissima di origini inglesi e purtroppo è stata ritrovata morta nella sua camera d'albergo in Svizzera dopo essere stata fatta fuori da un gioco erotico andato male. La donna pensate che si trovava in bagno, era insieme al suo fidanzato che sarebbe stato arrestato come sospettato sul caso. Ovviamente è triste quello che si è verificato, come ci fa sapere dei mail a lanciare allarme presso Tarra Amada, la Palma o l'H a Locarni Svizzera, sono stati gli ospiti della struttura che hanno percepito gridare più e più volte la fanciulla in questione. Quando sono arrivati i soccorsi la ragazza già giaceva a terra, priva di vita, a soli 22 anni di età. Grazie Anna Florence Redd, riposi in pace. Amen.